Penso che Giulio Cesar siccome ha vinto anche tanto con l'Inter è un portiere che potrebbe dare più sicurezza però se Napoli prende Pepe Reina potrebbe essere comunque un grandissimo colpo per sostituire De Sanctis Io preferisco Giulio Cesar perché è un grande portiere, ha vinto molto, è più preparato, ha più anni di esperienza come portiere quindi secondo me dà più sicurezza, più bravo Io avrei preferito Giulio Cesar in verità perché Pepe Reina viene da un anno di parecchie difficoltà però speriamo in Benitez, se l'ha voluto Benitez io mi fido Veramente anch'io speravo che arrivasse Giulio Cesar però a quanto pare non siamo così ambiti quanto l'Arsenal Di tutta sincerità io a questo punto punterei o su De Sanctis, me lo darei un altro anno oppure direttamente su Rafael Pepe ne ho viste tante di papere e quindi è meglio lasciarlo là, l'altro non vuole venire e quindi ci teniamo il porterone Rafael Io mi auguro Giulio Cesar, poi non lo so, il mio auguro è quello che arrivi un portiere di fama internazionale Rafael da quello che ho visto in allenamento è un portiere molto esplosivo, quindi si parla del futuro portiere della nazionale brasiliana Grazie a tutti!